Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07, siamo qui con il riassunto della ventesima giornata di serie a team 2020-2021 ricordo che in questa serie è esclusa la partita della Juve perché la Juve io e la mia squadra del cuore e la recensisco in una partita a parte detto questo ringrazio il buon Antonio per le PixArt, giornata che ha visto praticamente vincere tutte in vetta tranne l'Atalanta che comunque era in uno scontro diretto per il resto vincono praticamente tutti, adesso andiamo ad analizzare partita per partita, a partire, scusate la ripetizione, dall'ultima partita appunto disputata domenica adesso dite che è colpo di Fonseca ragazzi, dai dite ancora che è colpo di Fonseca perché veramente un allenatore che si trova terzo in campionato con 40 punti in 20 gare praticamente non ne stecca mai una di quelle squadre tipo Geno, Dinesi, Benevento, Fiorentina, Sampdoria, Verona, la Roma non ne fallisce una ragazzi quest'anno la Roma ha perso solamente punti con le big, pareggi con Juve, Inter e Milan, sconfitta con il Napoli, sconfitta con la Lazio, sconfitta con l'Atalanta per il resto la Roma praticamente ne ha vinte, ne ha vinte praticamente tutte quindi stanno andando veramente a gonfie vele e non capisco il motivo di quale si critichi Fonseca, non gioca a Dzeko, gioca a Maioral che segna lo stesso non gioca a Pedro, gioca a Pellegrini sulla trequarti che si inventa trequartista e fa 4 gol e 5 assist in campionato quindi veramente bene, non ha rete per Mkhitaryan ragazzi, quindi davvero straordinario per il Verona invece battuta d'arresto, che comunque ci può stare, i giallo-blu rimangono noni, ampiamente salvi e dunque va benissimo così anche per loro per quanto riguarda invece l'Udinese riescono a vincere in casa dello Spezia 1-0 con il gol di De Paul, fa tutto lui, perché si è fatto anche Speller, ecco perché è scritto fa tutto De Paul 3 punti d'oro per l'Udinese, al terzo risultato utile consecutivo, 5 punti negli ultimi tre partite, comunque una buona media quinta vittoria per loro in campionato, si portano momentaneamente a più 6 sulla zona salvezza quindi molto molto bene per loro, per quanto riguarda lo Spezia invece è il secondo KO consecutivo un punto negli ultimi tre partite, ci sta perché venivano da due vittorie di fila quindi dopo due vittorie di fila hanno fatto un punto in tre partite, comunque per la media che hanno loro ci sta e nada, lo Spezia che in questo momento è a più 3 sulla zona salvezza e comunque rimane in lotta e stanno facendo comunque il loro discreto lavoro a Spezia comunque sottolineiamo che De Paul è veramente per me un top player, non capisco cosa ci faccia l'Udinese lo vedrei bene al Napoli o al Milan, almeno secondo il mio modo di vedere Gotti sta veramente allenando bene questa squadra, spero che rimanga più lungo possibile perché è uno di quei allenatori che comunque lascia l'impronta per quanto riguarda il Genoa invece si parla di un destro rinato anche di un Genoa rinato, soprattutto con Ballardini al terzo risultato, alla terza vittoria nelle ultime quattro partite ragazzi con un pareggio che ne completa il parziale ragazzi quindi veramente in questa statistica 10 punti in quattro gare per il Genoa una media da Champions League con Ballardini si sono praticamente ritrovati stanno veramente viaggiando fortissimo merito anche di un macchia destro che stava segnando anche sì col precedente allenatore ma con Ballardini si sta veramente rivitalizzando e sta vivendo una seconda giovinezza macchia destro per quanto riguarda il Genoa si trova fuori dalla zona retrocessione a più 6 sulla 18esima in classifica momentaneamente sono Torino e Cagliari a pari merito però veramente veramente bene c'è da sottolineare qui il gran lavoro di Ballardini per quanto riguarda invece il Crotone il Crotone si trova ad affrontare l'ennesimo KO il quarto negli ultimi 5 gare rimangono ultimi in classifica però solamente a meno 3 dalla zona salvezza quindi insomma per il momento l'importante è essere lì però 12 punti in 20 gare è cominciato ad essere un bottino veramente magro per quanto riguarda la Lazio la Lazio volevo spiegare vendetta e l'hanno ottenuta vendetta dopo che sono stati battuti all'andata vendetta dopo che sono stati battuti in Coppa Italia in 11 contro 10 quindi veramente hanno perso con lo minimo se non vincevano questa hanno fatto godere tutti gli scommettitori perché chi capisce un minimo di calcio ha subito intuito che questa partita sarebbe andata alla Lazio 3 a 1 primo gol in campionato per Murici si fa vedere anche Andrea Spereira benissimo primo assist per Andrea Spereira primo gol di Murici in Serie A che replica al gol in Coppa Italia per lui due gol negli ultimi due partite che sono anche gli unici due gol con la maglia della Lazio peraltro quindi insomma finalmente si sta sbloccando un po' Murici molto bene Correa la seconda marcatura stagionale in campionato con 5 reti in totale si è visto bene anche Immobile si è visto bene anche Luis Alberto veramente il centrocampo della Lazio è una tecnica sovraffina ogni azione parte da Milinkovic calcia di poco a lato una punizione mette di poco a lato un altro pallone quindi veramente veramente bene la Lazio per quanto riguarda l'Atalanta diciamo che ci sta una battuta d'arresto dopo che comunque venivano da 9 risultati utili consecutivi scusate per quanto riguarda il Napoli mi chiedo io ma cosa vogliono di più da Gattuso? cioè da un allenatore che se il Napoli vince la partita da recuperare sono terzi in classifica questo viene poco sottolineato hanno la seconda migliore differenza lette della Serie A dietro l'Inter hanno la differenza lette migliore del Milan che è prima in classifica e hanno comunque più vittorie della Juventus con le stesse partite giocate certo la Juventus ha comunque punti in più perché ne ha perse 2 mentre il Napoli ne ha perse 6 però ragazzi Gattuso è arrivato con Mertensiosi ma in fuori ha dovuto giocare con Petagna titolare alternandolo con Lozzano che deve giocare mezza punta un qualcosa veramente di incredibile quindi insomma cosa vogliono chiedere di più a Gattuso? porta a casa comunque non che il compito possa essere difficile il risultato con il Parma che anche con il ritorno di Tavaersa in panchina fa un punto in tre partite vedremo insomma come andrà a finire però per il momento il Parma è penultimo a meno 2 dalla zona salvezza quindi sta messo veramente veramente male l'Inter l'Inter invece riparte da qui questo si spera per loro perché è la seconda seconda vittoria in 5 partite a gennaio per loro 3 su 6 contiamo anche la Coppa Italia però seconda vittoria in 5 partite ha perso con la Sampdoria pareggiato con l'Udinese quindi insomma l'Inter che a gennaio come è solito ha pareggiato anche con la Roma quindi fa anche un po' di fatica però insomma magari si possono rivitalizzare da qui per loro è la seconda vittoria negli ultimi 3 partite due vittorie e due pareggi che ne completano il parziale rimangono a meno 2 dal Milan a più 4 sulla Roma e più 5 sulla Juve che però c'è una gara in meno Lukaku fa doppietta gol anche di Lautaro curioso il fatto che giochino loro due anche in casa con il Benevento entra Sanchez e fa l'assist Lukaku fa doppietta Lautaro fa gol per il resto Eriksen ci pensa a sbloccare il risultato su punizione un po' a trabocchetto con le punizioni alla Pjanic che di solito scaturiscono spesso errori avversari come quello di Improta che si è fatto l'autorete Conte che sta dando un'impronta a questa squadra come ha detto lui se si batte la Juve se è sulla strada giusta per quanto riguarda il Benevento ragazzi il Benevento mi ha dato quasi l'impressione che non abbia voluto giocare non abbia voluto giocare alt nel senso che li vedevo poco con spirito combattivo come se fossero già partiti con lo stimolo di dire oggi perdiamo poi non lo so se è stata una mia impressione ragazzi ma oggi il Benevento cioè oggi dipende guardate il video però il Benevento l'ho visto veramente assente per quanto riguarda il Milan più che Mijalovic contro il suo passato più di Bologna contro il Milan e Ibra contro i Rigori ragazzi perché sbaglia l'ennesimo rigore stagionale d'ora in poi è meglio lasciare il compito a Kessy ragazzi a Kessy che comunque si dimostra un ottimo centrocampista con più freddezza magari rispetto allo svedese solamente parlando dei calci di rigore ragazzi per il resto Ibrahimović rimane fortissimo Ibrahimović se la dovrà vedere ora in campionato magari in un momento no però sono sicuro che Zlatan fino a fine campionato farà ancora altri gol ci delizierà sicuramente ancora per quanto riguarda il Milan invece doveva dare delle risposte dopo la recente sconfitta e le risposte sono comunque ampiamente arrivate dopo le sconfitte contro Inter e Atalanta serviva una risposta ed è stato dato il 2-1 al Bologna anche se il Bologna ha rischiato di pareggiare la squadra di Mialovic gioca veramente bene a pallone con la Juve è mancata un po' di personalità con il Milan magari è mancata un po' la fortuna almeno secondo il mio punto di parere però per il resto rimane una bella squadra sono sicuro che nelle prossime uscite il Bologna farà meglio rimangono comunque quindicesimi a più 5 sulla salvezza e sicuramente si salveranno almeno secondo me se non pareggiava così il Torino veramente potevano richiamare Gian Paolo ma per il semplice motivo che è 9 contro 11 dove Belotti si dimostra essere un po' l'anticalcio in queste evenienze sapete che per me Belotti è il miglior attaccante italiano è uno dei migliori attaccanti al mondo il mio modo di vedere è uno un po' come De Polo che ogni anno lo vedi lì al Torino e dici che cazzo ci fa lì quando magari poteva essere al Milan poteva essere al Napoli poteva essere in qualunque squadra top potevo vederlo bene addirittura la Juve io o Belotti però ragazzi è incredibile se non pareggiavano così io il Torino non lo vedo giocare bene come giocava bene con Gian Paolo con Gian Paolo giocava bene ma non coglieva i risultati certo è un pareggio però qui non si vince veramente dall'età della pietra sono quattro pareggi in cinque partite veramente non so cos'altro devono fare per me poteva rimanere Gian Paolo per quanto riguarda la Fiorentina ottiene un buon punto altro risultato utile per loro stanno cercando di scalare la classifica stanno cercando di conquistare la metà sinistra vediamo dove arriveranno per il momento il Bottino conta 22 punti in 20 partite Bottino è decisamente magro per una squadra qualitativamente forte come la Fiorentina non ne vince più una invece il Cagliari che si fa guantare da Bogat al 94esimo certo Bogat ha fatto un bel gol Bogat aveva bisogno di questo gol è il suo terzo gol il suo Bottino conta 3 gol e 2 assist in questo campionato può fare decisamente di più anche se comunque una prima parte di campionato tra infortuni e Covid non è stata dalla sua parte la fortuna sicuramente anzi ha avuto gli infortuni dalla sua parte non la fortuna il Sassuolo che rimane ottavo in classifica 31 punti praticamente il doppio di quelli che viaggiano in 17esimo 18esima posizione quindi veramente veramente bene il Torino male il Cagliari che rimane appunto in 18esima posizione con la metà dei punti del Sassuolo 15 punti in 20 gare per una squadra che ha in rosa giocatori come Nandes e Joe Pedro non lo trovo non lo trovo una cosa possibile poi boh è stata comunque una bella partita per chi si è niente di calcio ho visto comunque gli highlights e comunque è stata una bella partita per cui il Cagliari deve assolutamente svegliarsi detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e a secondare un dislike commento se siete d'accordo se siete d'accordo se siete d'accordo con me se non l'avete ancora fatto iscrivete al canale in descrizione il link per sicuramente su Instagram da ManuSport07 è tutto ringrazio con Antonio per le pixate noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti